danni da maltempo sopra luoghi della protezione civile nazionale rischio crisi idrica nonostante gli allagamenti dalla regione l'impegno a stabilizzare i precari della sanità posata la prima pietra al centro amazon delle marche una pedalata per sostenere le cure palliative pediatriche una buona serata a tutti voi telespettatrici e telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 80 ben ritrovati a rossini news il nostro spazio informativo della sera che in questa edizione di mercoledì 24 maggio apriamo occupandoci nuovamente dei danni procurati da allagamenti ed esondazioni nel nostro territorio il consiglio dei ministri di ieri ha rimandato a un diverso percorso lo stato d'emergenza del nord delle marche rispetto a quello della disastrata emilia romagna oggi in tal senso è arrivata una fitta serie di sopralluoghi da parte della protezione civile nazionale nei luoghi più danneggiati del nostro territorio sopralluoghi che saranno utili a stimare i danni meritevoli di contributi governativi decretato lo stato d'emergenza il relativo piano d'aiuti per l'alluvionata emilia romagna l'allargamento di sostegni governativi alla provincia di pesaro urbino è passato oggi per una decisiva giornata di sopralluoghi da parte degli incaricati della protezione civile nazionale delegati che hanno visitato alcuni dei luoghi maggiormente danneggiati del territorio provinciale per stilare un report utile a dare corpo e concretezza allo stato d'emergenza nel nord delle marche nel territorio comunale di pesaro protezione civile nazionale e delegati della regione marche sono stati accompagnati dall'assessore comunale enzo belloni e dal capo di gabinetto del sindaco ricci massimiliano amadori in tre ore di sopralluoghi si è passati dalle frane collinari di villabetti fra gli smottamenti di valle e le frane presistenti ulteriormente aggravatisi e poi i sopralluoghi su aziende danneggiate da allagamenti quali cartfer e del pf e scavolini in chiusa di ginestreto dalle strade interrotte fino al campo sportivo di Vismara completamente da rifare abbiamo mostrato le frane che abbiamo registrato, gli smottamenti abbiamo visitato alcune aziende che hanno subito danni importanti abbiamo mostrato quelli che sono i danni in alcune abitazioni privati che apparentemente sembra niente e poi dopo quando uno lo vede con i propri occhi magari dimostra i video di quello che è successo la settimana scorsa raggiunge la nuova consapevolezza ci auguriamo che il report uscirà da qui a questa sera rispetto alle situazioni della nostra città porterà poi il governo domani a decidere per decretare lo stato di emergenza anche nella nostra provincia nel pomeriggio la protezione civile nazionale ha continuati sopralluoghi nell'entroterra provinciale per stilare una relazione finale che le amministrazioni stanno corredando con schede tecniche, immagini e video dei giorni d'allerta arancione gli uffici stanno preparando tutte le schede tecniche relativa anche a cifra presunta di quelli che possono essere i danni registrati con foto e video allegati perché sono quelli che poi ti danno l'idea l'esatta percezione di quello che è successo devo dire che i problemi più grossi li abbiamo registrati rispetto ai fossi il fiume Foglia ha tenuto perché sostanzialmente è stato fatto un bel lavoro quello rispetto alla pulizia degli argini anche se vi ricordo nei mesi scorsi aveva suscitato anche parecchie polemiche rispetto al taglio degli alberi però il fiume è tenuto, i fossi no dovremmo rimboccare le maniche tutti quanti e iniziare a fare un lavoro serio sulla pulizia dei fossi oltre al danno si rischia pure la beffa è proprio il caso di dirlo perché la grande quantità di acqua piovana che ha ingrossato i nostri corsi d'acqua negli ultimi giorni rischia comunque di non scongiurare la crisi idrica in vista di un'altra presumibile estate siccitosa la colpa secondo il consigliere regionale Andrea Biancani è della scarsa manutenzione degli invasi del nostro territorio e per questo ha presentato una interrogazione in consiglio regionale in tal senso in consiglio regionale è stata discussa una mia interrogazione molto importante che riguarda il tema delle sondazioni sicuramente attuali e della siccità io ho ribadito nel fatto che la regione debba fare la sua parte e sollecitando ma in maniera anche abbastanza rapida ma anche netta e chiara è ad anticipare lo sfangamento delle dighe oggi presenti nella provincia di Pesorubino in particolar modo la diga del Fullo, di San Lazzaro, di Travanelle perché sembra un paradosso ma nonostante le piogge che ci sono state per l'estate rischiamo comunque di andare in crisi idrica ricordo che già lo scorso anno in piena emergenza siccità abbiamo approvato degli atti di indirizzo dove la giunta regionale si è impegnata ad anticipare la pulizia degli invasi ma a tutt'oggi nulla è stato fatto quindi si continuano a fare annunci ma poi non vengono seguite da azioni fatti concreti dei tre invasi infatti solo per l'invaso del Fullo c'è attualmente un progetto in corso ma ovviamente i lavori non sono ancora partiti ci vorrà tempo prima che partiranno mentre per l'invaso addirittura di San Lazzaro e di Tavernelle gli altri due invasi molto importanti non c'è neppure un progetto attualmente in corso si è visto che solamente pulendo gli tre invasi esistenti l'acqua che potrebbe essere accumulata appunto pulendo gli invasi consentirebbe di coprire un fabbisogno idrico di ulteriori 40 giorni rispetto ad oggi inoltre voglio ricordare che se gli invasi avessero comunque una maggiore capacità ricettiva si ridurrebbero anche le esondezioni perché ricordo che gli invasi svolgono un vero e proprio controllo sulle piene quindi la pulizia degli invasi è veramente strategica per quanto riguarda invece la creazione di nuovi invasi è emerso dalla risposta che la soluzione non sarà la realizzazione di piccoli invasi in quanto troppo costosi e difficili da gestire ma si punterà sulla creazione di bacini più grandi io ritengo che ormai il clima è cambiato e siamo abbiamo di fronte si pioggia sempre più violenti di eccezionali e che il terreno quindi non è in più in grado di assorbire l'acqua nelle falde idriche sotterranee che quindi non vengono alimentate di meno non vengono alimentate e penso che per il futuro il futuro non sarà scavare nuove pozzi di acqua sotterranea quindi di acqua profonda ma il futuro per riuscire ad avere l'acqua potabile sarà quello di pulire innanzitutto i bacini esistenti di fare nuovi bacini appunto che avranno anche un ruolo di laminare le piene quindi ridurre il rischio di isondazioni rimango convinto che nel nostro territorio vada comunque progettato anche un impianto di disalazione per dare le risposte ad eventuali momenti di crisi di presenza di acqua potabile soprattutto in estate anche perché oggi i costi energetici si possono abbattere con le fonti alternative e quindi ritengo che occorra puntare anche sulla disalazione E restiamo nell'ambito del Consiglio regionale ma parliamo invece di sanità visto che ieri è stata approvata una risoluzione unitaria da parte del Consiglio regionale per la stabilizzazione del personale sanitario assunto in servizio in occasione dell'emergenza Covid-19 Noi chiediamo alle istituzioni sovraordinate che sono conferenza Stato di Regioni per le proposte il Ministero della Salute e il Governo di rivedere il tetto di spesa per il personale perché il PNRR dà grandi finanziamenti per i luoghi di cura quindi case della salute, ospedali di comunità eccetera eccetera ma poi c'è bisogno di personale e noi oggi siamo in una situazione paradossale cioè noi non possiamo assumere e quindi non possiamo procedere alla stabilizzazione dei precari però paghiamo di più cooperative esterne o medici in pensione per coprire i turni di lavoro Noi chiediamo che il Governo prenda atto di questo che il Ministero del Tesoro nella figura dei suoi dirigenti guardi come stanno le cose e trovi una soluzione per permetterci di stabilizzare i tanti precari che hanno acquisito professionalità Un impegno che parte da una mozione nostra dove chiediamo al Governo nazionale distanziare risorse adeguate per rispondere alle esigenze dei precari ma soprattutto del settore sanitario nella sua interesse Praticamente si chiede all'assessore Saltamartini di farsi interprete presso il Governo di un aumento delle risorse e per aumentare il tetto di spesa perché sappiamo perfettamente che abbiamo un grossissimo problema che è quello delle mancate assolzioni del personale che abbiamo assunto a tempo determinato per il Covid e quindi tutto questo personale andrebbe stabilizzato e chiediamo che sia possibile farlo perché altrimenti che cosa succede? Che vediamo che le liste d'attesa vanno fuori controllo e soprattutto c'è il rischio che le nuove case di comunità gli ospedali di comunità non abbiano personale sufficiente per essere operative È ovvio che va contemperata anche con le carenze che riguardano i medici di Medicina Generale e Guardia Medica che pure hanno bisogno di un rimpinguamento sia in termini di risorse umane che di finanziamenti Le immagini che vi mostriamo ora arrivano invece da Iesi dove questa mattina è stata posata la prima pietra per la realizzazione del nuovo centro di distribuzione in Italia di Amazon Si tratta del primo centro Amazon nelle Marche Al taglio del nastro al fianco del presidente della regione Francesca Quaroli erano presenti fra gli altri anche il ministro per le imprese Adolfo Urso e il vice presidente Amazon Nord America e Europa Stefano Perego Si tratta di un max investimento di Amazon nelle Marche che porterà oltre mille posti di lavoro oltre a rappresentare una leva ulteriore per il rilancio del polo intermodale della nostra regione Domenica 28 maggio a Pesaro farà tappa per la prima volta il Giro d'Italia delle cure pagliative pediatriche sarà una ciclo pedalata collettiva a sensibilizzare su questa delicata tematica sulla salute dei minori La Fondazione Vanda di Ferdinando ha risposto a questa chiamata, a questa proposta di Fondazione Maruzza che ha organizzato questo evento nazionale, il Giro d'Italia delle cure pagliative pediatriche e quindi abbiamo organizzato anche a Pesaro per la prima volta una tappa di questo Giro d'Italia delle cure pagliative pediatriche In che cosa consiste il nostro intervento? È un intervento di promozione presso la cittadinanza con questa ciclo pedalata organizzata per il 28 di maggio Ci vediamo in piazzale Europa in Baia Flaminia alle 9 e alle 9 e mezza partiamo in direzione Fano dove nella zona 106 faremo una breve sosta per poi rientrare entro le ore 12 tutti insieme con un piccolo rinfresco, allietando questo momento del rientro con un piccolo rinfresco Mi raccomando per partecipare è fondamentale iscriversi mandando un'email a infochiocciolafondazionediferdinando.org oppure su Eventbrite Questa era l'occasione buona per ricordare a tutti che così come nella pedalata, così come anche nel ciclismo C'è sempre chi sta a volte davanti per tirare il gruppo e chi sta dietro Ecco, noi dobbiamo cercare di creare un gruppo bello e ogni tanto c'è qualcuno che deve tirare la volata Ecco, in questo caso tutte le realtà di volontariato devono partecipare assolutamente anche tutti i cittadini perché dobbiamo tirare la volata per tutti questi bambini che hanno necessità delle cure pagliative pediatriche Sono pochissimi quelli che in realtà possono accedere, forse spesso per poca conoscenza Quindi ecco, noi vogliamo organizzare questo evento, partecipiamo come CSW proprio per sensibilizzare il più possibile a questa tematica UISP, come ormai sappiamo tutti, è un ente di promozione sportiva ma è anche un'associazione di promozione sociale Il nostro sottotitolo parla chiaro, ci chiamiamo sport per tutti, significa non escludere nessuno in particolare le fasce più fragili della popolazione Ieri guardando nel sito proprio della Fondazione Maruzza leggevo le varie definizioni che si danno a queste cure e una di quelle che mi ha colpito maggiormente è questa, che le cure pagliative pediatriche sono la risposta migliore che una società civile può dare alle persone fragili e sai, la fragilità spesso è anche sinonimo di bellezza, di delicatezza, è con qualcosa da tenere da conto cerchiamo di preservarla e di non dimenticarsi di queste persone Abbiamo un aumento esponenziale di bisogni di cure pagliative pediatriche Tenete presente poi che anche nei confronti di pazienti minori che purtroppo entrano in un contesto di inguaribilità e affrontano un periodo di fine vita in Italia ogni anno muoiono per malattie inguaribili circa 9.000 minori La rete di cure pagliative riesce a intercettarne 450 meno del 5%, quindi voi capite quanto è importante parlare di cure pagliative quanto è importante creare una rete, quanto è importante dare supporto ai pazienti e alle famiglie che hanno questi minori con bisogni di cure pagliative Cure pagliative non vuol dire tirare il reno in barca, non vuol dire non fare più nulla ma vuol dire affiancarsi e capire quali sono i bisogni di questi pazienti e assieme alla famiglia, assieme ad altri professionisti creare una rete per dare una risposta a questi bisogni Rimaniamo in tema di bambini e parliamo in questo caso di quelli nati a Pesero nel 2022 appena trascorso Dopo il rinvio per maltempo di due settimane fa torna domenica 28 maggio l'appuntamento con i felici di essere nati 18esima edizione dell'evento organizzato dal Centro Aiuto alla Vita che dalle 16 alle 19 vedrà nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca un pomeriggio di festa e di ritrovo per tutte le famiglie che hanno avuto la gioia della nascita del proprio figlio nell'anno appena trascorso E restando su tematiche dell'infanzia vi annunciamo che sabato alle 11 sul Monte Nerone si terrà l'inaugurazione del nuovo parco giochi per bambini realizzato presso il rifugio Chalet Principe Corsini A questo si aggiungeranno nuovi servizi per escursionisti appassionati di attività outdoor Vi ricordiamo che Rossini TV sarà presente con le sue telecamere per la realizzazione di uno speciale che vi mostreremo la prossima settimana Ed ora vi segnaliamo che domenica 28 maggio alle ore 18 al Centro Civico Creobicce di Gabicce Mare Comune, Ordine dei giornalisti e Lions Club Gabicce organizzano l'appuntamento divulgativo Intelligenza artificiale, cosa cambia nella società e nell'informazione Relatori dell'appuntamento saranno il giornalista Raffaele Vitali e il docente dell'Università di Macerata Emanuele Frontoni Ed ora due servizi che hanno come cornice Villa Caprile e l'Istituto Agrario Cecchi Nel primo è però il Liceo Artistico Mengaroni a farsi capofila di un progetto all'insegna della sensibilizzazione al cyberbullismo Il cyberbullismo colpisce più a fondo del bullismo Questo perché non si limita ad episodi circostritti ma può durare anche per tutto l'arco della giornata e si estende ad una rete potenzialmente enorme Stalking online, pubblicazione di dati personali video privati caricati in rete minacce, diffamazione tutto ciò è considerato un reato che porta le vittime a soffrire di ansia, depressione e tentativi di suicidio Ciò che spaventa di questo fenomeno sono i dati in allarmante crescita soprattutto nelle scuole ecco perché la prevenzione e la sensibilizzazione dei più giovani potrebbe essere un piccolo passo per cercare di combattere un pericoloso nemico invisibile Il progetto si basa sul spostare l'attenzione sulla prevenzione del cyberbullismo in particolare stimolando delle azioni di rispecchiamento empatico nei ragazzi e nelle ragazze al fine proprio di far acquisire una struttura di una classe, di una piccola comunità al cui interno i ragazzi appunto si aiutano in maniera scambievole Quindi l'intervento della professoressa Piediconi dell'Università di Urbino ha svolto tutta una serie di attività proprio per cercare diciamo delle dinamiche latenti che potrebbero sfociare in atteggiamenti di cyberbullismo e una volta rilevate queste dinamiche latenti il Consiglio di classe interviene per poter in qualche modo agevolare una collaborazione, una partecipazione a livello della classe Ecco noi pensiamo come scuola che tutte queste manifestazioni di bullismo e cyberbullismo debbano essere in qualche modo prevenute perché quando arrivano poi alla punizione diciamo a quella che è la sanzione il lavoro diciamo è finito ed è fallito e quindi spostare sull'empatia piuttosto che arrivare a forme di cyberbullismo Questa giornata per noi è molto importante perché rappresenta un momento significativo di questo progetto che vedrà l'intervento anche dell'Arma dei Carabinieri la dottoressa Pediconi dell'Università degli Studi di Urbino il dottor Lanzi che ha lavorato già con noi in precedenza per combattere tra virgolette il fenomeno del bullismo e cyberbullismo e analizzarlo in quelle che sono le dinamiche sottese ma anche a volte purtroppo esplicite Sono due classi tra l'altro coinvolte in questo progetto di ricercazione una dell'Istituto Cecchi una del Liceo Artistico Mengaroni e devo dire che i ragazzi hanno lavorato con serietà con impegno, con attenzione quindi dimostrando anche l'importanza di questo percorso in cui erano coinvolti e per noi è stato un segnale importante e speriamo che ulteriori finanziamenti del Ministero ci consentano di portare avanti questo filone di ricerca e poi importante il valore aggiunto è la collaborazione tra le scuole si è lavorato con due classi afferenti a due istituti diversi e questo lavorare in rete rafforza quella che è l'importanza del percorso progettuale e della innovatività della ricerca che stiamo conducendo però è chiaro che la partecipazione diretta e l'interazione tra i ragazzi sono delle azioni insostituibili per una scuola per quanto la mediazione l'online può essere un contributo per la docenza l'insegnamento però quando entriamo nelle educazioni è impossibile prescindere dalla presenza e questo progetto in qualche modo ha restituito anche delle forme di aggregazione utili, educative per le nostre classi Caprile, Illuminata e Agri Show arrivano proprio in questi giorni due eventi correlati nella stessa splendida cornice di Villa Caprile che vengono applauditi in questa intervista dal vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini Ritornano la Gris Show e Caprile Illuminata la Gris Show dal 25 al 28 di maggio Caprile Illuminata sarà due giorni quindi un weekend con la manifestazione che abbraccia la Gris Show ovvero anche uno dei momenti in cui Villa Caprile ha il massimo verso splendore grazie al lavoro degli studenti e degli insegnanti anche recuperando i disastri che il maltempo ha creato anche questa zona nella settimana scorsa e restituendo la meraviglia di questo posto anche dal punto di vista di come può essere vissuta la Gris Show è già una manifestazione incredibile in cui la scuola si presenta al meglio ci sono stand gastronomici presentazioni presentazioni del lavoro dei ragazzi durante l'anno e soprattutto Caprile Illuminata ora la terza edizione che è ritorno dopo la pandemia è un'occasione per mettere una ciliegina che ricorda l'importanza di questo luogo che ha portato Pesaro contribuito a Pesaro nel 1700 essere una vera e propria capitale della cultura come saremo nel 2024 luogo che ha ospitato storie incredibili da Rossini a Stendhal a Casanova a Carolina di Brunswick e quindi sarà l'occasione per rivivere una storia letteraria ma anche una storia musicale molti aneddoti verranno raccontati molta musica verrà eseguita compreso la conclusione con il guillantel e anche la possibilità di raccontare altre storie la storia a proposito di dove siamo di Rossini attraverso la gastronomia e quindi il suo ruolo di gourmet e di quasi testimonial antelitteram di prodotti extraordinari dell'agroalimentare dell'Ottocento e in generale è un'atmosfera magica che ricordiamo dalle precedenti edizioni che crediamo potrà essere fortemente rilanciata anche nell'ottica della natura della cultura e della visione prospettica verso Pesaro 2024 di cui la quarta edizione a questo punto di Caprile Illuminata diventerà uno dei fari più splendenti si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News vi ricordiamo però alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata che comincia già alle 20.10 subito dopo il nostro TG per chi ci segue in prima edizione andremo a rivedere le suggestive immagini di Cagli nel consueto appuntamento con la festa della pipa tenutasi questo weekend appuntamento alle 20.10 e poi lo abbiamo citato nel TG appena trascorso Daniele Vimini sarà il protagonista di questa puntata di Amministrando Amministrando è un format realizzato dal nostro Antonio Astuti che ogni mercoledì ci porta alla conoscenza dell'attività amministrativa di comuni e province e regioni in questo caso parleremo con Daniele Vimini che è il vice sindaco e l'assessore alla cultura del comune di Pesaro l'appuntamento è alle 21.20 e poi le repliche che vedete in grafica dal giovedì al lunedì l'informazione su Rossini TV poi torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia sempre come detto in diretta dal lunedì al sabato si conclude qui il nostro telegiornale vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV di Rossini TV